Gentili telespettatori, buona giornata. Cambia tutto. Fonti della Lega dicono che Salvini vedrà Draghi sabato. Hanno fatto trapelare che Matteo Salvini incontrerà Madrido Draghi sabato perché sarebbe una conferma del fatto che il fronte delle attuali opposizioni di centrodestra non è più compatto. Salvini aveva invece auspicato che Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia potessero proseguire le consultazioni mantenendo una posizione unitaria. Infatti c'è il sì di Berlusconi al governo Draghi. Ma attenzione, questo lo capiva anche la mia zia ricca di Bisceglie, nel senso che Berlusconi ha continuato a dire da giorni, primo punto, sì a un governo Draghi e se ci sono le elezioni andiamo alle elezioni. Quindi Berlusconi è da tempo che dice sì, Giorgia Meloni è da tempo che dice no e Salvini è da qualche giorno che dice vediamo. Quindi tre partiti, tre posizioni diverse. Se poi ci mettiamo Totti che è sulla linea berlusconiana del sì a Draghi perché Totti vuole fare il ministro e non l'avete capito, Totti si sente già ministro, signor ministro, prego passi signor ministro, si sente già ministro, è alla guida di un partitello da 0,6%. Lui l'ex delfino di Berlusconi, lui che gli piace comandare come Renzi, lui che ha un super ego smisurato, insomma a me non è mai piaciuta quella persona, l'ho sempre detto, a me i delfini di qualcuno mi danno sempre un senso, un po' come quelli che sono i primi della classe, quelli che il professore dice sempre lui è il migliore, a me quelli non sono mai piaciuti, non sono mai piaciuti. Insomma, quindi centrodestra unito, cara Giorgia Meloni, purtroppo il centrodestra non è unito, volevano avere una linea comune, al massimo ci asteniamo tutti quanti. Io pensavo, ma Giorgia Meloni che dice al massimo ci asteniamo sapendo che Berlusconi continua a dire sì al governo Draghi e manda i suoi politici a raccontare, se la Lega ha fatto un governo con i 5 Stelle noi siamo rimasti fuori, non è saltato il centrodestra, se adesso noi facciamo un governo con tutti cosa vuol dire che salta il centrodestra? Realmente quella è un'affermazione che ha spiazzato sia Salvini che Meloni perché quando Forza Italia dice Salvini ha governato con i 5 Stelle noi siamo stati fuori, adesso qual è il problema? Realmente questa affermazione blocca ogni controaffermazione perché uno dice beh in realtà, insomma in realtà, però c'è una differenza che volevo raccontarvi, ve l'ho già raccontata per chi se l'è persa. Se Salvini è andato con i 5 Stelle, i 5 Stelle non erano con la sinistra, non erano di centrosinistra, non erano alleati con un governo di sinistra, i 5 Stelle erano trasversali, era una forza che era contro il PD, era una forza di quasi centrodestra il Movimento 5 Stelle, una forza populista che lo chiamavano il Movimento Rivoluzionario, una forza trasversale dove all'interno c'erano persone di destra, di centro, di sinistra, di centrosinistra, di centrodestra, c'erano dentro di tutto, c'erano elettori che arrivavano da tutti i partiti. Quindi quando la Lega ha fatto l'alleanza con il Movimento 5 Stelle non era il Movimento 5 Stelle di oggi. Capisco che Giorgia Miloni non piaceva né il Movimento 5 Stelle del 2018 né quello di oggi. Forse non gli piace di più quello di oggi. Però la Lega ha fatto il governo con i 5 Stelle e sono due cose differenti. Quindi una cosa è fare, o tre cose differenti, una cosa è fare il governo con i 5 Stelle nel 2018, quando era il Movimento 5 Stelle. Una cosa è fare un governo assieme a Conte, cioè una maggioranza allargata, andare a governare con un governo di centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle diventato una forza di centrosinistra. Una terza cosa è andare a fare un governo Draghi aperto a tutti. Ecco, io l'ho detto, sono tre cose. Il governo 2018 con i 5 Stelle era una cosa, una maggioranza allargata dal centrosinistra più Forza Italia è un'altra cosa. La terza cosa è un governo di Draghi, non politico aperto a tutti. Io sarei dell'idea, come dice Matteo Salvini, incontro Draghi, gli porto delle proposte, vediamo se Draghi è in linea con le nostre proposte. Certo che un Presidente del Consiglio incaricato che già nelle consultazioni possa dire a Salvini sì sulle autonomie, sì sul taglio delle tasse, sì su quota 100, sì su riedizione dei decreti sicurezza. Che Mario Draghi, economista, con già le sue idee, possa sposare totalmente l'elenco delle cose che vorrebbe fare Salvini al governo è difficile. Io credo che ci possa essere una convergenza su alcuni punti. Chissà, magari Mario Draghi è convinto che quota 100 sia la cosa migliore e gli può dire a Salvini certo, l'andiamo a ripristinare. Non credo che Mario Draghi pensi a dei decreti sicurezza da ripristinare. Non credo. Quindi sulla flag tax Mario Draghi probabilmente avrà una sua idea di tassazione italiana, di modifica delle tasse. Quindi non credo che possa aderire al 100% nelle idee di Salvini. Magari qualcosa gli dirà a Salvini sì, questo è interessante, questo lo possiamo vedere, questo tema realmente non è la priorità. Quindi bisogna vedere se Salvini vuole un Mario Draghi che dice sì a tutto o per lui è sufficiente che abbracci qualche tema caro alla Lega. Come ad esempio se solo Mario Draghi dicesse quota 100 la vado a ripristinare subito. Insomma, visto che quello è uno dei capisaldo della Lega, piuttosto, ho sempre detto anch'io, piuttosto che, piuttosto di una Lega che rimane fuori a criticare. Forse è meglio una Lega in un governo di tutti dove riesce a portare avanti qualche capisaldo della Lega. Non so come quota 100, non so la flat tax. Quindi se c'è un'apertura di Draghi forse è meglio accettare un governo che stare fuori a non poter proporre più niente. Perché poi da fuori non è che puoi dire, eh beh, senti Draghi, ti ricordi quota 100? Dice, tu non sei voluto entrare nel governo. Insomma, se eri qua se ne poteva discutere. Quindi vedremo quello che succede perché cambia il quadro delle consultazioni. All'improvviso evolversi della situazione, in particolare il riposizionamento dei 5 Stelle a favore di Draghi, sta mutando l'agenda politica della giornata. L'inizio delle consultazioni tra Draghi e partito è destinato a slittare 17. Comincia a farsi strada anche la prospettiva che il centrodestra non si presenterà più unito ai colloqui con il presidente incaricato. Sul riposizionamento nel Movimento 5 Stelle a favore di Draghi diciamo che c'è qualche esponente che diventa a favore di Draghi. Vedremo che cosa succede. Vi ringrazio e buon proseguimento di giornata.